Bella raga, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale Oggi Godmod ragazzi con l'agenzia, dovremo aggiungere questa attività tra i preferiti e possiamo iniziare poi il glitch PS Xbox, come requisito possedere l'agenzia quella vicino al casino e poi possiamo iniziare Quindi ragazzi ci dirigiamo dalla reception e assicuriamoci di avere l'attività posizionata in questa maniera una volta giunta E quando siamo con lo switch in alto a sinistra come state vedendo dobbiamo cercare di correre schiacciando la freccia destra Per entrare con il menu della reception dentro il cerchio A questo punto quando siamo in questa posizione dovremo andare a cliccare su lsia e subito dopo spammare freccia destra ragazzi A questo punto a me non mi è riuscito, ci riprovo, mi metto in questa posizione, premo freccia destra, il tasto per correre verso destra Prenderemo da avere il menu dentro il cerchio Vado su lsia ragazzi, clicco una volta, lo clicco una seconda volta e subito dopo raga spammo freccia destra Continuo a spammare freccia destra finché in basso a destra non vedo il caricamento Dopodiché dobbiamo tenere premuto ragazzi il tasto per aprire il telefono cioè la freccia su Se vi fa questa schermata non vi siete buggati ragazzi Quindi dobbiamo riprovarci Adesso vi faccio vedere la maniera corretta Intanto raga se siete interessati a account moddati per PS5, Xbox Series, Xbox One A prezzo di 50 euro non esitate a contattarmi Se invece volete account per PS4 raga soltanto su richiesta account glitchati quindi non mod Con 120 di rango, 120 milioni e magari quello che volete voi all'interno a prezzi del tipo di 70 euro Mi dispiace ma per PS4 per forza in questa maniera Quindi raga ci rechiamo dalla reception Una volta che abbiamo in alta sinistra lo switch Cerchiamo di fare freccia destra al tasto per correre verso destra per entrare nel cerchio con il menu Una volta che siamo nel cerchio con il menu andiamo su LSIA Premendo freccia sinistra se no buggate tutto A questo punto cliccate una volta Poi lo ricliccate e subito dopo freccia destra Una volta che siamo in questa schermata spammiamo freccia destra finchè non finisce il caricamento E poi apriamo il telefono E switchiamo il telefono con la freccia su Se vi fa questa animazione che vi fa rispaunare fuori dall'agenzia E sbada Boom ragazzi Saremo in god mode Non è facilissimo dovete capire il timing Ma una volta che capite il timing lo farete sempre Io spero che questo video vi sia stato d'aiuto Per cortesia ragazzi lasciate un like se vi è piaciuto il video Supportare questo canale E far si che vi porto sempre contenuti inediti funzionanti Bella regà Sbada bam Sbada bam Sbada bam falta Ya Grazie a tutti.